E' tutti giovani Soprattutto quello che sei a guardare prima Ma qual'è il corridoio? Quello è troppo giovane Si è registrato, maledetta Vabbè quello ricciolino avrà 35-36 Ricciolino, tu ne hai 40 Ma mica per me Saddi Tu non puoi guardare nessuno Esci, mi giuro Questa è la nostra camera La roba di terrestre Il plasma Ovvio Alla ricerca delle prese Allora, da notare la testa intelligente della signora Cioè, da notare, la prima cosa Che queste due campionesse Per due giorni si sono portate Il trolley bifamiliare Ma che bifamiliare? Allora, numero uno Tu non hai i capelli che ho io Numero uno Numero due Io, questo è col più piccolo che ho Quindi Va bene Va bene Vediamo il bagno To 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 A lei non ti frega degli asciugamani eh Non mi chiamo io Il cortesia non disturbare Il cortesia non disturbare Signori Perchè? Il cortesia non disturbare Come primaverita Quello devi mettere Notare Valigia di Michelle Quella è pure tua Valigia di Alessia Sacca di Miriam Nella serie Nella serie Che belle belle sempre Ma perchè non lo dici che qua dentro ci sono anche i tuoi vestiti Sarà più pesanti di tua che il mio Letto di Alessia e Michelle Con mare Con mare e con marucci devono stare insieme Questo è il mio Eccezionale che ci ritiriamo il letto singolo Eccezionalissimo Io non ci voglio dormi con mamma Brava perchè tu scacci come un mulo Ah per quello me lo vuoi dare E tu russi E pure io russi Io russi Ecco se pure tu russi Se io sono un'altra lingua non è colpa Se io sono il russo Ecco Ecco qua Oh Mo' spegniamo i telefoni Lo sto caricando E il navigatore E la macchina Eh è spento Carichi Michelle già vuoi prendere possesso dell'armadio? Ma perchè dove ti sei in armadio? No Si dai